Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi voglio mostrarvi un'apertura estremamente pericolosa che potrete giocare con i pezzi neri. La cosa buona è che non è molto conosciuta, è piena di trappole e in alcuni casi potete vincere anche subito la partita. In più è stata giocata dal campione del mondo Magnus Karzen. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare mi piace al video e iniziamo. Dopo e4, d5, pedone per d5, come ben sapete io vi porto sempre aperture d'attacco e anche questa volta sarà così. Qui vi consiglio di giocare cavallo f6. Ora la mossa più giocata da parte del bianco è d4 ma vediamo prima cosa succede se il bianco dovesse semplicemente difendere il pedone con c4. A questo punto consiglio la mossa e6 e qui rientriamo nel gambetto islandese. Dopo pedone per e6, alfiere per e6. Come vedete abbiamo già sviluppato due pezzi, infatti il nero di solito si sviluppa molto velocemente e ha dei piani d'attacco molto interessanti. Qui la mossa più giocata è pedone d4 e noi proseguiamo con alfiere b4 scacco. Ok, ora come vedete il nero ha due possibilità, giocare cavallo c3 oppure alfiere d2. Iniziamo con cavallo c3 che è anche la mossa più giocata. Dopo cavallo c3 qui noi continuiamo con cavallo e4 mettendo subito pressione sul cavallo in c3 e il bianco da qui ha tutta una serie di mosse che ora andremo a vedere subito, ma vi dico che sono tutte perdenti tranne una forse che regge. Ok, intanto se il bianco dovesse semplicemente difendere il cavallo con cavallo e2 possiamo continuare con alfiere per c4 con un'ottima posizione, quindi qui niente di preoccupante. Invece in questa posizione vediamo altre mosse, ad esempio pedone d5, questo è un grosso errore da parte del bianco, noi proseguiamo semplicemente con donna f6, attacchiamo il cavallo in c3 e più che altro minacciamo scacco matto in una mossa in f2. Qui il bianco non può fare assolutamente niente, infatti dopo ad esempio cavallo f3 segue cavallo per c3 e dopo pedone per c3, alfiere per c3, come vedete attacchiamo la torre, stiamo dando scacco a re, quindi tutto forzato, alfiere d2, alfiere per torre e dopo pedone per alfiere segue donna per pedone scacco, alfiere 2, alfiere f6 salvando l'alfiere con un grosso vantaggio, meno 5.2 per il nero, quindi qui abbiamo partita completamente vinta. Ok, ritornando alla posizione critica dopo cavallo e4, chiaramente il bianco ha anche altre mosse, vediamo cosa succede se dovesse difendere il pedone con la donna, ad esempio donna c2, in questo caso proseguiamo con cavallo per c3 e dopo pedone per c3 abbiamo questa linea molto interessante con donna per d4. Ovviamente il bianco non può catturare altrimenti perde la torre, quindi deve giocare cavallo e2, qui proseguiamo con donna e5 e qui di nuovo ovviamente non può catturare altrimenti segue donna per a1 guadagnando la torre, quindi in questa posizione il bianco deve giocare ad esempio alfiere f4, noi proseguiamo con donna f6 e ora il bianco potrebbe decidere di catturare il pedone c7 perché è in presa no questo pedone, ma dopo alfiere per c7 proseguiamo con arrocco e qui abbiamo un vantaggio enorme, il bianco infatti non può fare assolutamente niente, vediamo una variante, ad esempio pedone g3 per preparare alfiere g2 arrocco, segue torre 8, alfiere g2 per arroccare, segue alfiere f5 attaccando la donna e dopo ad esempio donna c1 giochiamo semplicemente alfiere per c3, dato che il cavallo è inchiodato stiamo attaccando la torre e abbiamo partita vinta, quindi dopo cavallo e4 donna c2 non è granché, vediamo donna d3 cosa succede, qui giochiamo alfiere f5 attaccando la donna, preparando arrocco e dopo ad esempio donna f3 giochiamo cavallo c6, qui lasciamo l'alfiere in presa e questa è una trappola ovviamente dopo donna per alfiere che è la mossa più logica, segue cavallo per c3 e qui di nuovo vediamo due varianti, una con pedone per c3, proseguiamo semplicemente con alfiere per c3 guadagnando la torre con un grosso vantaggio, mentre su alfiere d2 abbiamo la possibilità di giocare donna e7 e dopo alfiere 2, cavallo per e2, cavallo per e2, alfiere per d2, quindi una variante tutta forzata e dopo re per d2, qui la finiamo in maniera spettacolare segue donna per e2, re per e2 e cavallo d4 scacco, dopo ad esempio re d2, cavallo per f5, rimaniamo con un pezzo in più, davvero devastante questa linea, quindi dopo cavallo e4 in questa posizione ci rimane solo da vedere alfiere d2, ma non è granché perché segue subito donna per d4 e la cosa bella è che qui come potete vedere più di 1500 persone giocano cavallo f3, incredibile no? Cavallo f3 segue donna per f2 scacco matto, pazzesco ok, invece la mossa più giocata che è cavallo per e4, qui proseguiamo con donna per e4 e dopo alfiere e2 giochiamo cavallo c6, qui su cavallo f3 giochiamo arrocco, abbiamo di nuovo un grosso vantaggio, giusto per farvi vedere ad esempio dopo arrocco da parte del bianco proseguiamo con alfiere per d2 e dopo cavallo per d2 giochiamo donna f4, a questo punto il bianco perde un pezzo, infatti non può in nessun modo difendere il cavallo, se spossa il cavallo chiaramente perde la donna, quindi come vedete l'apertura è estremamente pericolosa riprendiamo un attimo la variante, quindi dopo e4 abbiamo detto d5, pedone per d5, cavallo f6 e qui stiamo vedendo la mossa c4, qui abbiamo detto giochiamo pedone e6 e su pedone per e6 e alfiere per e6, abbiamo già sviluppato due pezzi, dopo pedone d4 giochiamo alfiere b4 scacco e qui abbiamo appena visto cavallo c3, ora vediamo alfiere d2, qui vi propongo di nuovo una variante molto interessante che inizia con donna e7, andiamo a difendere l'alfiere ma stiamo anche attaccando il re dell'avversario, quindi qui la mossa più giocata è alfiere per b4, segue donna per b4 e dopo donna d2 il bianco cerca di cambiare le donne ma io consiglio di mantenerle e quindi giocare donna e7, qui la mossa più giocata è donna e3, noi proseguiamo con cavallo c6 e arriviamo a un punto critico della variante dove il bianco potrebbe subito cadere nella trappola e potrebbe giocare pedone d5 che è anche la mossa più giocata solo che è un errore clamoroso, infatti dopo pedone d5 possiamo giocare cavallo b4 minacciando cavallo c2 dando il doppio o il triplo in questo caso dato che c'è anche la donna in e3 e dopo donna e2 giochiamo alfiere f5, di nuovo minacciamo cavallo c2, quindi donna per e7, segue re per e7 e unica mossa per il bianco per difendersi da cavallo c2 è giocare cavallo a3, a questo punto giochiamo pedone c6 e dopo pedone per c6, pedone per c6, qui vi faccio vedere quanto è pericolosa questa posizione per il bianco, ad esempio cavallo f3, segue torre e8 e dopo alfiere 2, re f8 e la partita è da abbandono, il bianco non può arroccare, stiamo minacciando cavallo d3 e cavallo per b2 con un grosso vantaggio. ecco quindi che dopo cavallo c6 il bianco non può spingere subito in d5, vediamo un'altra variante, ad esempio cavallo f3, possiamo proseguire con cavallo g4 attaccando la donna e dopo donna e2 giocare arrocco lungo, qui di nuovo il bianco può essere tentato di giocare d5, vediamo cosa succede, ad esempio d5, giochiamo torre, h e 8, come vedete tutti i nostri pezzi sono attivi e vediamo cosa succede ora se il bianco dovesse catturare l'alfiere oppure il cavallo, iniziamo con il cavallo, qui proseguiamo con alfiere per c4 e qui addirittura c'è matto forzato, infatti dopo donna per e7, torre per e7, cavallo e5, praticamente unica mossa, torre per e5, alfiere e2, torre per e2, re f1, torre d1 scacco matto, davvero devastante, invece in questa posizione se il bianco dovesse catturare l'alfiere, qui proseguiamo con donna b4 scacco e dopo cavallo d2 giochiamo torre per e6 guadagnando la donna, infatti dopo donna per e6, pedone per e6, qui abbiamo la donna in più e posizione vinta di nuovo, come vedete l'apertura è davvero micidiale, ora andiamo a vedere la linea principale, quindi dopo cavallo f6 vediamo la linea principale che è pedone d4, a questo punto proseguiamo con alfiere g4 e qui vediamo le due continuazioni più frequenti che come vedete sono alfiere 2 e f3, partiamo con f3, dopo f3 possiamo giocare alfiere f5 e qui prendiamo la mossa più giocata che è pedone c4, ok a questo punto giochiamo pedone e6 e dopo pedone per e6 possiamo giocare cavallo c6, questa è una mossa veramente incredibile, ovviamente il vostro avversario giocherà pedone per f7 scacco e dopo re per f7 raggiungiamo questa posizione che come vedete è stata giocata anche da karsen e ovviamente karsen ha vinto, qui prendiamo due mosse possibili, ad esempio prendiamo la mossa pedone d5, vediamo cosa succede su pedone d5, qui possiamo giocare cavallo b4 minacciando cavallo c2, quindi mossa forzata per il bianco è giocare cavallo a3, a questo punto proseguiamo con alfiere c5 preparando torre e8, quindi dopo alfiere e2, torre e8, alfiere g5 ad esempio, qui abbiamo un grosso vantaggio dopo alfiere per g1, torre per g1, alfiere d3, il bianco non può fare assolutamente niente, stiamo per fare torre per e2 oppure alfiere per e2 e la partita è da abbandono, quindi in questa posizione dopo re per f7 il bianco può anche giocare la mossa alfiere e3, questa è la più giocata, noi continuiamo con alfiere b4 scacco e dopo cavallo c3 giochiamo torre e8 di nuovo mettendo pressione sull'alfiere in e3, qui vediamo due mosse, una con donna d2, il bianco cerca di difendere l'alfiere, proseguiamo con donna per d4 e dopo donna per d4, cavallo per d4, abbiamo posizione completamente vinta, stiamo minacciando torre per e3 oppure cavallo per c2, il bianco non può difendersi in nessun modo, quindi riprendendo la nostra posizione dopo re per f7 abbiamo detto alfiere e3, alfiere b4 scacco, cavallo c3, torre e8, qui abbiamo appena visto donna d2, vediamo anche la mossa re f2, ok a questo punto giochiamo torre per alfiere e dopo re per torre, qui entriamo in una linea veramente assurda con una trappola devastante, dobbiamo giocare la mossa alfiere c2, incredibile, mettiamo l'alfiere in presa, è una mossa che serve a deviare la donna, vediamo cosa succede, ad esempio dopo donna per c2 possiamo giocare donna per d4 scacco e dopo re 2, torre 8 scacco, qui segue scacco matto a breve, potete analizzarla da soli il bianco non ha difesa, invece dopo alfiere c2 il bianco potrebbe anche decidere di non catturare l'alfiere e giocare ad esempio donna d2, a questo punto proseguiamo con cavallo g4, un'altra mossa veramente incredibile e dopo pedone per cavallo proseguiamo con donna g4 scacco, re 2, torre 8 scacco, re f2, donna per d2, guadagniamo la donna, come vedete sono delle varianti veramente incredibili, nella variante principale devo essere onesto dopo la mossa f3 qui su alfiere g5 il bianco ha la possibilità di giocare una buona linea ma che molto probabilmente non conosce ragazzi, questa linea è con pedone g4 ma guardate un po' cosa deve riuscire a trovare il bianco in questa posizione, ok? noi giochiamo alfiere g6, il bianco deve giocare c4, è fin qui tutto normale, pedone e6, cavallo c3, pedone per d5, deve giocare g5 che non è così facile da trovare ma mettiamo che la trovi, cavallo d7, cavallo per d5, cavallo c6 e qui deve trovare la mossa c5, cioè dai nel senso vi capiterà quasi mai, quasi mai perché non la conoscono, è un'apertura che non conoscono e quindi non sapranno cosa fare, quasi mai entreranno in questa variante ok ci rimane solo una linea ora da vedere, dopo pedone d4, alfiere g4 vediamo un'altra mossa molto giocata che è alfiere e2, a questo punto possiamo continuare con alfiere per e2 e dopo cavallo per e2 giocare donna per d5, qui già abbiamo una posizione molto attiva il bianco deve arroccare perché chiaramente stiamo attaccando il pedone in g2 quindi il bianco arrocca, qui giochiamo cavallo c6 e dopo cavallo c3 giochiamo donna h5, il nostro piano è molto semplice, vogliamo arroccare lungo, vogliamo giocare cavallo g4, stiamo attaccando il pedone in h2 e inoltre prepariamo la spinta in e5, ad esempio dopo alfiere e3 qui possiamo semplicemente arroccare, stiamo preparando e5, cavallo g4, stiamo già molto meglio posizionalmente quindi dopo donna h5 il bianco deve giocare cavallo g3, qui consiglio di nuovo di non cambiare le donne giocando donna g6 e dopo alfiere e3 arrocco lungo, il nostro piano è lo stesso giocare e5, h5, h4, ad esempio prendiamo la mossa più giocata del bianco che come vedete è cavallo e2, qui possiamo proseguire con pedone e5 e dopo pedone c3 giochiamo h5, dopo h4 possiamo giocare cavallo d5 attaccando l'alfiere ma in realtà attaccando anche il cavallo quindi il bianco deve per forza spostare l'alfiere, ad esempio dopo alfiere d2 noi possiamo continuare con pedone per d4, cavallo per d4, cavallo per d4, come vedete è tutto forzato, pedone per d4, alfiere e7, stiamo andando ad attaccare il pedone in h4 e abbiamo posizione vinta, l'apertura in sé è molto carina, sono sicuro che sorprenderete i vostri avversari, come mi avevate chiesto vi ho portato un'apertura con i pezzi neri, grazie a tutti per la visione di questo video, vi ricordo nuovamente di lasciare mi piace per supportare il canale, iscrivetevi al canale, grazie a tutti e alla prossima!